Cris, quest'anno un format diverso, che cosa cambia e come sarà il 2022? L'idea è stata quella di riuscire a riproporre l'idea e l'identità di Bicesbury U attraverso un programma più leggero, più dilatato, più rilassato e utilizzando solamente il palco dell'Anabi e una puntata al bacino Pescherecci. Per quanto riguarda l'anno prossimo speriamo veramente, ci auguriamo di ritornare alla normalità e quindi anche al doppio palco con il palco grande in Spiaggia Libera e un'edizione più corposa. I grandi artisti però non mancano? No, comunque abbiamo una bellissima programmazione di artisti internazionali che ovviamente saranno soprattutto dei soli perché ci si muove con i voli, però ogni giorno avremo un ospite internazionale e c'era anche molta voglia da parte degli artisti di partecipare a questa edizione e riprendere un po' di contatto con la realtà e con i propri fan.